Ci sono degli elementi nella lettera che i sindaci hanno mandato a Minniti, c'è almeno un punto su cui si può concordare, viene fatta fuori la parte politica con gli scioglimenti ma resta la parte burocratica che spesso è la parte più inquinata e con la quale il sindaco successivo si trova a fare i conti, quello su cui non concordo affatto sono atteggiamenti e diciamo di ribellismo come per esempio l'idea di riconsegnare le fasce e in generale con il messaggio politico che viene fuori da questa iniziativa, perché deve essere chiaro senza sì e senza ma che i sindaci dello Stato italiano stanno con lo Stato ed è molto pericoloso in territori purtroppo permeati dalla criminalità organizzata mandare messaggi che possono essere fraintesi, ho letto di cose assurde come l'attacco dei poteri forti contro i sindaci, l'attacco alla democrazia, queste sono sciocchezze, i sindaci pensino a governare bene nel nome dei loro cittadini e a fare pulizia come lo Stato chiede, perché la Calabria è una terra che merita di più.